Grazie, ben trovati con alcuni, saluto a chi non ho mai incontrato. Innanzitutto vorrei ringraziare, non economicamente ma veramente con un grazie sentito al Consumer Forum per aver organizzato questa importante occasione di confronto di idee. È un passo abbastanza interessante, innovativo e in linea con la dimensione nuova di collaborazione e di dialogo tra tutti i soggetti proposti in determinato campo. Un'occasione di confronto di idee su temi del consumerismo da esperti del mondo dell'università, della ricerca, rappresentanti delle istituzioni nazionali, europee e anche esponenti di imprese e delle associazioni appunto dei consumatori. So che questa iniziativa si annuncia come un primo appuntamento di un evento che promette e quindi dal quale acchingere di diventare periodico. È sicuramente un'iniziativa importante per il consumerismo italiano e noi non possiamo augurarci il successo dei risultati che vengono da stimolo da questi incontri per fare uno degli appuntamenti rituali di tutti coloro che hanno a cuore, realmente non a parole, la tutela dei consumatori. Consumer Forum non ha certamente nessuna esclusiva per l'organizzazione di un evento del genere e per fortuna assiniera l'attenzione crescente dovuta al consumatore, ma anche altri eventi importanti per il consumerismo italiano, singolo, ricorrenti, organizzati da soggetti pubblici, soggetti privati e l'ultimo la sessione, questo ci tengo a ricordarla, la sessione programmatica che in base al codice del consumo è annualmente organizzata dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e delle regioni che quest'anno si svolgerà a Napoli il 18 e il 19 novembre con un tema specifico, quello del servizio pubblico locale. Ma questa di oggi ha una sua importanza e una peculiarità perché è un'ossessione, spazio di confronto aperto tra tutti i punti di vista, che guardano però tutti al consumatore in linea con la caratterizzazione di Consumer Forum come associazioni in cui sono presenti, spazio di confronto e di collaborazione la maggior parte delle associazioni dei consumatori e anche delle imprese, abbiamo detto prima, all'università della ricerca. In queste conclusioni non voglio, non posso richiamare ritualmente tutte le diverse fasi, i diversi momenti di questo convegno il ministero comunque è stato presente, è stata aggiornata con il nostro direttore, anche il garante del dottor Vecchio e ho avuto modo di partecipare io in questa sessione conclusiva volendo evidenziare come il ministero dello sviluppo economico si è seguendo con grande attenzione e forse, non so, ma lo vedo dall'agitazione che c'è nel mondo attorno con una sensibilità rinnovata rispetto ai temi appunto dei diritti dei consumatori sia in Italia che in Europa che hanno costituito appunto il progetto stesso della vostra giornata. Anche per riprendere qualche intervento che è stato fatto prima, per esempio quest'anno e il secondo anno che viene fatto con maggiore specificità e partecipazione anche dell'associazione dei consumatori poi il ministero adesso tra pochissimi giorni, dovevo fare l'impegno di spesa entro fine anno metterà un bando che proviene dalla direzione della contraffazione proprio per portare la contraffazione a livello comunque italiano e questo strumento di comunicazione contro la contraffazione viene affidato alle associazioni dei consumatori ci sono un milione di euro, ci sono tre diverse filiere di tematiche che sono state individuate quindi vediamo lavorare insieme la direzione della contraffazione e la direzione dei consumatori e un milione di euro, magari non è tantissimo ma in questo momento in cui si piange avere un milione di euro o 12 anni in giro se no se lo prendono per qualche altra iniziativa utilizzare questi voli per la notte della contraffazione attraverso le associazioni che ne fanno il progetto e lo attuano ritengo che sia appunto un modo di testimoniare una diversa consapevolezza del problema e proprio su questa linea ieri pomeriggio al ministero abbiamo incontrato il commissario europeo e l'inica, so che l'avete incontrato anche voi insieme al direttore generale della direzione salute e consumatori della commissione europea che è italiano, una dottoressa brevissima la testore di oggi e nel corso di quell'incontro abbiamo avuto modo di condividere alcune valutazioni su tematiche che evidentemente immaginate, su metto alla definizione di un nuovo regolamento europeo sulla sicurezza dei prodotti, sulla necessità di realizzare un'ampia convergenza anche sulle disposizioni dove queste sono proposte dalla commissione e sono state fortemente sostenute dall'Italia relative alla tracciabilità dei prodotti e alle indicazioni dell'origine. La mia premessa al commissario ieri è stata comunque quella di dire, e so che è stato un tema che ha trattato nel suo intervento anche il Presidente Pituzzella, che è quello di dire non in tema soltanto di consumatori, in generale ormai se dobbiamo stare in Europa determinate battaglie contro o per si devono fare e hanno un senso e hanno un effetto se sono gestite a livello europeo. È impensabile che io in Italia posso fare o non posso fare qualcosa che invece mi è consentito, se illecito, in altri paesi della Unione Europea. Sostanzialmente al commissario Nimi che abbiamo detto o c'è più Europa anche in Italia e anche nel settore dei consumatori o, facciamo chiacchiera, perdiamo tempo e comunque anche i destinatari finali di ogni iniziativa a livello europeo sempre di più vanno spilacciate la fiducia nei confronti di questa istituzione che oltre ad avere assolutamente ormai una posizione come Europa a mettere di dire fuori mercato rispetto agli altri paesi emergenti che ci sono nel mondo, o comprendiamo questo, che siamo fuori mercato e comunque bisogna agire all'unisono come se fosse un unico paese o si perde tempo, si perdono risorse e qualunque azione non avrà mai un risultato incisivo se non è univoco in tutto il territorio. Evidentemente ha incassato, preso a questa considerazione il problema del sindaco, del sindaco ma è un problema, io lo vado a ripetere da più parti, abbiamo avuto anche occasione di farlo sull'utilizzo del contante che è comunque un tema che interessa anche i consumatori, non soltanto ma anche le imprese, il perché in Italia devono esserci dei limiti sull'utilizzo del contante e quindi una possibilità di utilizzo di pagamento, di pagamenti elettronici se al confine del nostro paese lo stesso prodotto viene offerto e viene venduto in maniera differente con la possibilità di spesa del contante rispetto al nostro, è chiaro che la concorrenza va più verso queste destinazioni che non verso il nostro paese. Quindi o si ha questa consapevolezza che anche l'utilizzo del contante, poi ci sono tantissime speculazioni, se mi consentite perché mi sono messe anche in piedi da alcune banche o da alcuni forti interessi economici del nostro paese perché dietro l'utilizzo della moneta elettronica, quindi contro l'utilizzo del contante, saluto con piacere l'esponente della Guardia di Finanza, si nascondono posizioni di tutela, di privilegi dei sessi soggetti bancari. Io sono per l'utilizzo della moneta elettronica, tu come sempre, aboliamo la cartacea ma aboliamo anche le commissioni bancarie. Non è possibile che il cittadino, il pensionato deve obbligatoriamente portare la pensione in banca, non è possibile che il pensionato tedesco deve avere un marco, non ha, non hanno per i fatti loro perché hanno un altro tipo di organizzazione, il conto corrente bancario però se viene in Italia non può pagare con i contanti, deve pagare con i privatori, è veramente una guerra tra poveri ed è una lotta soprattutto di coloro che stanno egemonizzando l'Europa per gli interessi monetari e non per gli interessi dei consumatori. Allora aboliamo la carta dei 500 euro che è quella che probabilmente aiuta molto di più il riciclaggio di denaro, non è possibile consentire agli extracomunitari che vengono in Italia importare contanti di 15.000 euro e invece l'italiano non può spenderlo e poi sappiamo bene che ormai se leggiamo i maggiori scrittori di lotta al riciclaggio sostengono e ci dimostrano come il riciclaggio oggi viene affidato prevalentemente ai sistemi elettronici, cioè non c'è più il riciclaggio della moneta contante. Mi fa specie come un altro braccio della nostra istituzione che è appunto il MES, il Ministero dell'Economia, ha fatto guerra nei nostri confronti affinché uniformassimo l'utilizzo del contante agli altri paesi europei brandendo che invece se noi dovessimo modificare questo limite dei 1.500 euro favoriremmo il riciclaggio. Non è così, vorrei spiegare che oggi in un'epoca moderna il mafioso non ha più la lupare e la coppola e il mafioso non ha più l'utilizzo della cassa ma ha sistemi totalmente statisticati perché è molto più difficile per loro forse poterli individuare. Quindi questo per dirvi che lo spirito dei cittadini, dei consumatori, di chi è proposto delle istituzioni deve andare verso questa consapevolezza, altrimenti è un'estenuante e stancante recitazione di posizioni che poi comunque ci porteranno a sbattere. Queste cose io le dico perché ci credo ma perché vorrei che ci fosse una riflessione maggiore da parte dei cittadini, cosa che non avendo molte informazioni avviene poco, per cui magari ci si affida alle cose che vengono dette, le banche addirittura promuovono oggi degli incontri per l'utilizzo della moneta elettronica e quindi magari con alcune cose che si dicono senza avere dall'altra parte l'altra verità ci si affida a queste soluzioni. Non mi sanccherò mai di dirle perché sono convinta che prima o poi la goccia realmente riuscirà a farsi il buco laddove è opportuno. Abbiamo condiviso con la rappresentanza della Commissione europea l'importanza dell'uolo delle politiche di tutela dei consumatori per sostenere la ripresa della crisi economica, tutelando i consumatori che sono vulnerabili dalla crisi, nuove povertà, chiedere fiducia ai mercati, promuovere la politica dei consumatori come contributo alla crescita piuttosto che come un ordine giustificato per le imprese, cosa che ancora in alcune parti viene vissuto come tale. Nella stessa ottica per rafforzare la fiducia dei consumatori il Ministro Zanonato ha sottoscritto lo scorso mese di luglio con le associazioni nazionali rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e del Consiglio dei utenti un documento programmatico congiunto, appunto chiamato l'agenda dei consumatori e definita proprio sul modello dell'agenda europea dei consumatori. Quindi quello che noi dovevamo fare rispetto a quello che ci chiedevano l'Europa abbiamo fatto, anzi ieri ci ha detto il commissario che siamo uno dei paesi più avanti rispetto agli altri, però forse l'Europa dovrebbe fare a questo punto un po' di più. Nel momento un altro dei temi che sono stati affrontati nelle sessioni precedenti di questo convegno, quello cioè della risoluzione alternativa delle controversie e dell'attuazione della direttiva 2013 numero 11 dell'Unione Europea, abbiamo riproposto al commissario mimica l'opportunità di un'espressa evidenziazione da parte della Commissione della piena compatibilità della pratica delle conciliazioni paritetiche con le disposizioni della direttiva che noi intendiamo attuare anche il termine di scadenza che è prevista il 9 luglio del 2015. Lo studio che avete prodotto e presentato sul tema delle liberalizzazioni in Italia è un lavoro ricco di spunti e di considerazione abbastanza interessanti, ma sappiamo e siamo consapevoli che è ovvia la considerazione che la liberalizzazione non sarà mai sufficiente se questa non è accompagnata da una regolazione e da un controllo che tuteli i consumatori e che spinga le imprese alla maggiore efficienza possibile. Le liberalizzazioni appunto senza un'adeguata regolazione possono anzi in alcuni casi avere l'effetto di ridurre gli spazi di concorrenza e la tutela dei consumatori e comunque non realizzare le aspettative di miglioramento per cui esse sono state introdotte. Basti guardare i diversi effetti che in termini di riduzione dei prezzi nel tempo hanno avuto ad esempio le liberalizzazioni nei settori contestualmente fortemente interessati da innovazioni tecnologiche e di prodotto come con i servizi telefonici oppure nei settori come con l'energia elettrica e del gas. Quindi liberalizzazione sì, ma ogni passo in avanti occorre che parallelamente venga fatta regolazione e controllo. Molto interessanti sono stati gli spunti che sono stati, utilizzeremo insieme al dottor Becchio, sono stati oggi gli interventi dei relatori. L'Europa va bene, la contraffazione vi ho detto. Quello che si è svolto fino a questo momento è un confronto aperto, la equivalenza è data proprio dalla differenza delle posizioni e delle valutazioni e nessuno ha titolo, secondo il mio punto di vista, a trarre conclusioni unitarie da tale ricchezza e priorità gli interventi. Per cui più che ripetere, sintetizzare o commentare le cose che sono state già dette, è opportuno forse informare che il Ministro dello Sviluppo economico sta facendo e vuol fare in tema di liberalizzazione. Sulle liberalizzazioni e semplificazioni c'è al Ministero un tavolo che abbiamo aperto, lo abbiamo aperto proprio nei primi mesi estivi. Sto coordinando per delle risposte del Ministro questo tavolo dove vede la presenza costante e fissa della tonità per la concorrenza col Presidente Pituzzena. Invece per quanto riguarda le assicurazioni abbiamo fatto uno stesso tavolo che oltre ad esserci l'antitrust è presente sempre IVAS. Abbiamo prodotto dei risultati utili e interessanti, non mi nascondo che poi il confronto con il servire degli interventi è sempre quello più difficile perché di poter cambiare posizione o perdere qualche privilegio è culturalmente un fatto che difficilmente viene accettato, ma noi lo so perché lo citavo anche di Bruzzella avendo fatto la relatrice delle liberalizzazioni che abbiamo viste di ogni colore, però insomma andiamo avanti su quella strada. Vogliamo completare l'attuazione delle misure di liberalizzazione e semplificazione già adottate e stiamo definendo, alcune sono già pronte e sono state trasmesse al Ministro, prima che devono essere inserite nel Decreto del Fare 2, poi il Decreto del Fare 2 non è andato più avanti, adesso ci sarà un collegato alla legge di stabilità, probabilmente sarà chiamato, non crescita, aiutami, no, adesso ci arrivo, destinazione Italia, ecco, mi arriva, destinazione Italia, devo andare in Consiglio dei Ministri venerdì, non questo, dato dalla prossima settimana e là ci saranno certamente, mi auguro che saranno condivise alcune proposte soprattutto in tema di semplificazione. L'impostazione di fondo è quella di dare una maggiore liberalizzazione del mercato per liberare le imprese da lacci e ragioni, sappiamo che oggi la burocrazia oltre al fisco costa il 50% alle imprese e in un quadro di regolazione abbiamo creato alcune norme che garantiscono uno sviluppo ordinato con una concorrenza leale che nessuno possa usare le indebite posizioni di vantaggio e l'importante è che non si facciano, perché questo è il tempo che c'è anche stato, passi indietro rispetto alle liberalizzazioni che sono state fatte. Poi all'intento semplificazione ve ne dico una per tutte, per me è la madre di tutto quando sono arrivata al Ministero, il primo incontro che ho fatto con Don Piovecchio e che adesso finalmente è diventato norma è stato quello di abolire tutte le autorizzazioni soprattutto per l'apertura di attività di impresa che non hanno bisogno di via o altri strumenti che comunque restano sempre e abolire tutte le autorizzazioni, basta soltanto una comunicazione di dati che viene fatta attraverso il collegamento telematico. Vi dicevo inconsolitamente difese le ripresentazioni già introdotte perché, e mi fa piacere che c'è presente il Presidente Don Pogliigilli, c'è stato un tentativo in Parlamento proprio alla Camera, domani dovrebbe andare in Aula definitivamente per restringere il provvedimento in tema di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali. C'è stata una corsa di ogni parte politica a presentare un proposto di disegno di legge. Devo dire che snaturava comunque quello che si era fatto nella precedente norma e per carità, probabilmente è tutto legittimo ma non si può accettare raccolte di firme per come sono state svolte, il problema di modello anche culturale di società che vogliamo immaginare per cui abbiamo cocciato tutte quelle proposte, il passaggio non si preoccupa perché visto che il passaggio in Aula è comunque obbligato perché spingerlo definitivamente e però siamo assolutamente disponibili a ragionare con gli enti locali laddove ritengono di fare dei piani di attuazione di orari differenzi, dare questa possibilità. I componenti della Commissione ancora non hanno ben maturato questa posizione, quando lo faranno saremo disponibili a modificare almeno questo Governo quella norma se però deleghiamo ai territori quindi la possibilità non obbligatoria di fare dei piani per poter attuare un più congeniale rispetto anche alle esigenze territoriali di orari differenti. Per il resto più che nuove radicali liberalizzazioni che almeno per il momento rischierebbero di determinare gravi contraccorpi per un tessuto di piccole e medie imprese intendiamo nell'immediato introdurre significative semplificazioni con procedure di accesso, esercizio delle attività economiche, riduzione degli oneri burocratici, rendere chiaro le forme su tutto il territorio nazionale anche alcuni obblighi e adempimenti necessari per l'avvio anche in tema di suolo pubblico. Nel nostro paese per esempio una mobilizzazione su solo pubblico, l'altra città di Palermo non è valida da esercitare in un'altra città, quindi con distrasia anche di questo tipo. Gli sportelli unici, telematici, una modulistica standardizzata e così via. Tutto questo che abbiamo prodotto degli articolati, adesso vedremo, forse il Consiglio dei Ministri avrà volontà di portare avanti. In tutta questa attività di manutenzione per l'attuazione delle norme esistenti e di definizione di nuove iniziative normative abbiamo evidentemente bisogno di un confronto costante, continuo con tutti i soggetti interessati, da imprese a consumatori che ci diano il loro contributo da operatori e quindi da soggetti destinatari ai nostri interventi. Il senso dei tavoli che devo dire fino a questo momento, anzi proprio oggi pomeriggio, ci abbiamo un po' ritardato perché l'abbiamo fatto un altro, abbiamo incontrato i gestori dei distributori di carburante, ci sono problemi immensi ed enormi, abbiamo cercato di andare verso le loro esigenze, noi a breve, entro l'anno daremo la possibilità a tutti i cittadini di avere nel mobile un'app dove sarà possibile pigiare gratuitamente come app e avere comunicazione sui prezzi dei distributori di carburante. Evidentemente si metterà un raggio, quindi potrai con la mappa che è realizzata, ormai tutti lo sappiamo usare. Questo l'abbiamo fatto con le liberalizzazioni, poi il Ministero ha fatto il decreto, sono arrivati su 25 mila distributori la comunicazione di tutti i dati per essere immersi da parte di 15 mila, sui 10 mila mancanti, riteniamo che ce ne siano qualcuno che tenta di resistere perché legato a grosse imprese che hanno gestione di pompe determinando un monopolio, quindi non avendo nessun tipo di interesse a dare questi dati, noi andremo avanti lo stesso, sarà il mercato che eventualmente li metterà fuori e un'altra parte ci saranno forse qualche problema che qualcuno un po' piccolo avrà delle difficoltà, ma comunque sempre con la massima collaborazione senza non sanzionare nessuno, ma aiutare il mercato a crescere, insieme alla direzione del proprio vecchio stiamo definendo, dentro l'anno sarà operativo ed utilizzabile in un telefonino questo tipo di informazione. I gestori hanno anche altri aspetti, ma quel tavolo sta cercando di affrontare con tutti i soggetti delle soluzioni per cui concludo, in auspicio rispetto al modello di lavoro che vogliamo portare avanti e rispetto all'iniziativa che oggi avete messo in piedi e presentato con Consumer Forum di questo ringrazio e elogio per la capacità il Presidente ad aver fatto tutto ciò, continueremo ad andare avanti convinti che questi luoghi sono gli unici luoghi veri, reali, dove qualunque tipo di iniziativa non venga imposta dall'altro, ma venga concertata sia con chi che è destinatario dell'intervento.